Giovedì 15 maggio alle ore 12 avrà luogo a Trieste, in località Cacciatore, Villa Revoltella, inaugurazione di un borgo residenziale per i profughi Giuliani e Dalmati, realizzato dall'Opera per l'assistenza ai profughi Giuliano e Dalmati, e dedicato alla patrona di Rovigno d'Istria, San Teofemia. Una strada interna del borgo sarà, nella medesima occasione, intitolata a Teodoro Maier, il grande patriota triestino, fondatore del quotidiano Il Piccolo. Il borgo, che si inaugura, comprende già 102 nuovi alloggi, mentre altri sono in corso di ultimazione. Così si legge sul giornale L'Arena di Pola, del 13 maggio 1958. Amici ascoltatori, benvenuti all'interno di Borgo San Teofemia, uno dei tanti borghi costruiti nella provincia di Trieste per dare alloggio agli esuli istriano-fiumani-dalmati dopo il secondo conflitto mondiale, quando l'Istria, fiume e Dalmazia fu assegnata alla Jugoslavia. Più di 300.000 esodarono da quelle terre, approdarono prima a Trieste, poi furono smistati nei campi profughi in tutto il paese, in tutta Italia. Quasi 70.000 invece rimasero nella città di Trieste e per loro fu necessario trovare un alloggio. Furono costruiti tantissimi borghi, come dicevo prima, sul Carso Triestino, sull'Alto Piano Triestino, ma anche nella periferia della città di Trieste, periferia dove ci troviamo, peraltro, in questo momento. È un luogo quasi magico, questo del borgo. Sono tantissime le costruzioni, le case. Sono a quattro piani, con due appartamenti per piano, immersi completamente nel verde. Una visione già alla fine degli anni 50 completamente diversa rispetto alle megalopoli che furono costruite in maniera coeva in quel periodo o soprattutto successivamente. Anche perché stiamo dando le spalle a un altro complesso periferico della città di Trieste, quello di Rozzol Melara, un complesso gigantesco per più di 2.500 famiglie che doveva accogliere e accolse dalla fine degli anni 70 migliaia di triestini che furono spostati dal centro cittadino. Ci troviamo quindi a Borgo Sant'Eufemia, un borgo bellissimo, bellissimo alle spalle di Trieste. Anzi, noi possiamo intravedere la città di Trieste lì, in fondo. Proprio sotto i nostri piedi siamo 200 metri sopra il livello del mare e la Brezza ci ha sospinto su questa strada perché siamo arrivati con un autobus che ci ha portato dal centro cittadino proprio qui, a Borgo Sant'Eufemia, dove si fonde l'aria carsica che scende dall'altopiano carsico con la salsedine del mare. È un connubio, un connubio particolare che permette alla natura qui di essere molto ma molto rigogliosa. Infatti il borgo è racchiuso, è racchiuso come una piccola fortezza con una sua via principale. Non ci sono negozi, ma viuzze piccole, molto piccole, che si intersecano e danno forma ad una geometria veramente, ma veramente incredibile. E poi la sapienza di chi ha costruito questo borgo perché ha piantato tantissimi alberi. I platani, che ad esempio adesso, in questo periodo, dopo la loro potatura, sono come dei candelabri, sono però privi delle candele. E il loro fogliame, che sta crescendo proprio in questo mese, ricorda la cera fusa che scende proprio dal candelabro, un candelabro naturale. Ma poi ci sono gli alberi, quelli più frequenti, il pioppo nero, il pino nero, il tiglio, il cedro, la robigna, il platano, come dicevo prima, ma si trovano anche in maniera minori abeti, olmi, cipressi. Insomma, sono delle costruzioni delle case che sono immerse, calate nel verde. Ma non ci sono solo gli alberi in questa porzione di città, di questa periferia particolare, intrisa di storie. Ci sono il pitosporo, l'oleandro, l'ibisco, il melograno e i piccoli rosetti che sono sparsi qua e là e con i loro profumi e con i loro colori conferiscono a questo luogo un qualcosa veramente di magico. Però c'è la storia. La storia, come dicevo prima, gli esuli, Istriano, Fiumano, Dalmati, trovano alloggio in questi borghi. Ogni borgo porta il nome della Santa Protettrice o del Santo Protettore della città di origine. Qui siamo in Borgo San Teofemia. È il Borgo dei Rovinesi, degli esuli da Rovigno, coloro che scapparono dalla città di Rovigno. Bellissima perla dell'Istria, proprio sul mare Adriatico. Ed è proprio Borgo San Teofemia, con una piccola statua, che ricorda la Santa Protettrice. Perché Borgo San Teofemia, patrona di Rovigno, dal nome greco Eufemia, che significa buon augurio. Ed era veramente un buon augurio per queste persone che erano scappate dal terrore della dittatura, ritrovare un po' di pace dopo tanti anni anche di campo profughi e trovare un alloggio qui, a Borgo San Teofemia. Ma non ci sono solo gli alberi, c'è anche la luce, una luce del tutto particolare, perché l'azzurro del cielo si fonde con i colori crema di queste case. E sono delle lame di luce che conferiscono una geometria di colori e di luce molto, ma molto particolare. Sono poche le automobili che fendono queste stradine, sono quelle dei residenti che qui vivono e abitano e curano questo borgo. Un borgo perfetto dove la storia sembra essersi veramente fermata. E poi c'è ancora un rimando, un rimando importante alla storia di Rovigno, soprattutto quando soffia impetuosa, forte, la bora che scende veloce dal carso triestino e spazza la città di Trieste, spazza anche questo borgo. Sono i panni, i panni che quando vengono stesi al sole, nelle giornate di bora, sventolano, si gonfiano, vengono piegate da questo impetuoso vento da est-nord-est. Come le vele si gonfiavano e si piegavano al soffio del vento nel golfo di Rovigno. Sono tanti i rimandi anche ideali che si possono fare qui in questo borgo. E questo borgo, il borgo di San Teufemia, rappresenta uno dei tanti tasselli della storia composita della città di Trieste.